Cominciare 90 al 2000, volume 52 Vai, ci siamo! E lui, Billy Moore! Questa cosa così! Oh 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 uh I know what you wanna be, if you just wanna be free, look at me Now shake my hand, don't you worry I'm just a friend, I want you to understand where I am If you want, you can come inside me, if you like, I can come inside you If you want, you can come inside me, if you like, I can come inside you Come, 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 so long to come, I'm the millennium girl Come, come, so long to come, I'm the millennium girl Attenzione alla prossima! Ciao! La voglio dedicare a tutti i miei amici di Bestook! Mi chai selecciona la barriere di Genie Si te cola! La voglio dedicare a tutti i miei amici di Bestook! If you want, you can come inside me, if you like, I can come inside you If you want, you can come inside me, if you like, I can come inside you Come, 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 so long to come, I'm the millennium girl I want, come, so long to come Mai di che con i nostri cavalieri percorriamo tutta le commerciali degli anni 90 e 21 da! Oh no die Chick enjoy! Grazie a tutti. Oh Dio, la la la, la la la, la la la, oh Dio, la 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 la, la la la, la la la, oh Dio, la 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 la, ci siamo e incontriamo. Sono, sono, sono impazzito. So, 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 so... Sifrana, Sifrana! Sifrana! Sifrana, Sifrana! 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 ve l'avevo detto si, esagerà faccio solo dei cramberi per i vostri orecchi per i vostri padiglioni auricolari commerciale 90 2000 volume 52 si, esagerà 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 forza, forza andiamo procediamo chi molla è perduto chi molla è perduto no 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 no